Un vasto assortimento a Catania di francobolli del mondo. Buste da 300 francobolli del mondo, tutti diversi, a 12 euro. Francobolli di varie nazioni, Romania, Venezuela, Argentina, Austria, Romania. 100 pezzi, 5 euro. Serie di francobolli con varie tematiche di animali, piante, quadri, sport, fiori, da un euro e mezzo e da 2 euro. Tematica scacchi, 2 euro. Tematica quadri, pesci, da 2 euro. Vassissimo assortimento, ampia scelta, con francobolli tutti belli, perfetti, con varie tematiche, Vaticano, Italia, tematiche sport. Per ogni collezionista anche il più esigente. Veniteci a trovare a Catania, in Vietnia 504, un vasto assortimento per voi.